Facciamo qualche esempio di questa nuova relazione tra l'uomo e la macchina, tra l'uomo e il suo modo di produrre, di lavorare, di creare dei servizi. Partiamo dalla casa. Una casa ha delle imposte, queste imposte le possiamo aprire a mano e chiudere la sera quando viene buio. E questo è un tipico modo di aprire e chiudere le finestre di una casa della prima rivoluzione industriale del mondo preindustriale. Se invece delle imposte abbiamo la tapparella, di legno, di plastica, questa è tipica della seconda rivoluzione industriale, ma la tapparella la dobbiamo pur sempre aprire e chiudere azionando meccanicamente con la nostra forza un cordone, una fettucina. Tipico della seconda rivoluzione industriale è anche il caso in cui la tapparella è meccanizzata, cioè ha un motore elettrico che la fa alzare e abbassare e noi schiacciamo un bottone per alzare le tapparelle o schiacciamo lo stesso bottone per abbassarle. Questo è un tipico modo di interagire della seconda rivoluzione industriale. L'uomo schiaccia il bottone, la tapparella si apre, la tapparella si abbassa, la porta si apre, la porta si chiude. C'è sì un motore, ma c'è l'intervento dell'uomo che pensa quando e come azionare il meccanismo. Se siamo invece nel mondo post-industriale, nella terza rivoluzione industriale, l'uomo ha davanti a sé a una tastiera. In casa ci sarà un computerino posizionato in vari ambienti nel quale noi andremo a scrivere quando e a che ora la tapparella si deve alzare, quando a che ora la tapparella si deve abbassare e dando un invio al programma la casa sarà gestita automaticamente rispetto alle tapparelle dal computer. Sarà il computer che dirà, seguendo le istruzioni che noi gli abbiamo dato, quando alzare le tapparelle e quando chiudere le tapparelle. E metteremo ad esempio di seguire, che so, il calendario del sorgere e tramontare del sole. Potrò inserire nel computer, alza le tapparelle tutte le mattine in tutte le camere, mezz'ora dopo il sorgere del sole e abbassale tutte le sere in tutte le camere, un quarto d'ora, venti minuti, un'ora scelgo io dopo il tramontare del sole. Ah, escludi il bagno perché nel bagno la tapparella la voglia aprire prima. Ecco, ho dato le mie istruzioni alla macchina e il computer eseguirà automaticamente queste operazioni. Questa è una casa del periodo post-industriale. Un altro esempio, restando sempre alla casa, potrebbe essere quello del riscaldamento. Dirò, nel mondo pre-industriale sarò io a portare la legna e a accendere il fuoco. Nel mondo della prima rivoluzione industriale, circa altrettanto sì, avrò una caldaia un po' più grossa, l'azionerò a carbone o a gas, ma sarò io a accendere e spegnere la caldaia. Nel mondo della seconda rivoluzione industriale, avrò un termostato che regolerò una certa temperatura, una serie di temperature, e il riscaldamento partirà e si spegnerà a seconda di quanto io ho impostato il meccanismo. Nella società, nel mondo post-industriale, mi rivolgerò invece al computer. Al computer potrò dare tutta una serie di istruzioni in più, tipo rileva la presenza della persona nella camera, se e quando io ho intenzione di accendere il riscaldamento. Non utilizzare il riscaldamento durante il weekend quando non ci sono, potrò già dire quanti weekend sono presenti, quanti non sono presenti. Potrò dare tutta una serie di informazioni aggiuntive che terranno il riscaldamento regolato secondo il software che io ho impostato. Così, ad esempio, anche per la luce. Se io ho mondo pre-industriale, candela, fiaccola, torcia, lampada. Mondo della prima rivoluzione industriale, lampada petrolio, lampada gas, sono sempre io che accendo e che spengo. Seconda rivoluzione industriale, lampadina, luce elettrica, accendo e spengo l'interruttore quando ho bisogno di avere luce in una camera o in ogni camera un interruttore, uno o più interruttori. Mondo post-industriale, sempre il solito computer di casa, nel quale imposto l'orario dell'accensione delle lampadine nelle varie camere, a seconda delle mie esigenze, e potrò preparare anche il colore della luce, se uso ad esempio lampadine a led, potrò preparare l'intensità di illuminazione e potrò addirittura a creare un programma nel quale dirò questa è la casa durante il fine settimana, voglio le luci accese a questa intensità in questi ambienti. Oppure potrò salvare il programma come festa e quindi avrò luci più accese, avrò luci più spente, a seconda delle esigenze particolari che nella casa, richiede illuminazione nella casa durante una festa. Allo stesso modo potrò fare con la musica, con la gestione degli etrodomestici, potrò programmare tutto il funzionamento della mia casa sul computer e quindi la casa si setterà da sola secondo quanto io ho previsto o preimpostato prima. Questa è una casa della terza rivoluzione industriale, una casa post-industriale gestita con il sistema che oggi viene chiamato della domotica. Ma mi direte voi come io sono oggi, sono passati quasi 40 anni da quando è cominciata il periodo post-industriale e a casa mia le tapparelle si alzano ancora a mano e l'interruttore lo spengo e la luce l'accendo e la spengo con l'interruttore. Certo, l'abbiamo detto anche nelle lezioni precedenti, i cambiamenti non sono immediati, non avvengono istantaneamente, ci vorrà del tempo affinché tutte le nostre case arriveranno a soddisfare le caratteristiche tipiche di una casa della società post-industriale. Altro esempio può essere quello dei servizi. Pensate a come dalla scrittura manuale o dalla stampa del mondo pre-industriale si passate alla macchina da scrivere del mondo della prima rivoluzione industriale e della seconda rivoluzione industriale dove la macchina da scrivere aveva un motore elettrico, ma era pur sempre una macchina da scrivere, alla moderna tastiera la stampante. Ci risulta chiaro che l'uomo comunicando con la macchina non ha più bisogno di un rapporto meccanico-fisico con la macchina, ma c'è un filo, c'è un'informazione che passa lungo il filo del computer o attraverso onde radio che mette in comunicazione con la macchina e nel settore dei servizi ha provocato un enorme risparmio dei costi, un enorme aumento della produttività. Pensate a quante operazioni amministrative, a quante operazioni fiscali, a quante operazioni contabili non debbono essere più svolte nell'ordine dalla persona, ma il computer che seguendo l'istruzione del software segue e svolge automaticamente. Pensate a quanto è più facile archiviare l'informazione su un disco fisso, su una chiavetta USB rispetto al doverla mettere in cartelle e cartellette, specialmente dal punto di vista del poi andare a ricercare l'informazione che abbiamo archiviato. Anche i servizi pubblici negli ultimi anni si stanno completamente trasformando in servizi online, in servizi che avvengono attraverso la comunicazione tra la tastiera dell'utente e il computer e il servizio messo a disposizione dalla pubblica amministrazione. Un ultimo esempio, potremmo parlare di tantissimi altri esempi, ma stiamo parlando ora del nostro mondo. Pensate ancora, non si può non dirlo, al mondo della finanza, al mondo del movimento dei denari, a quello che è la contabilità di una banca, a quello che è oggi il mercato finanziario, come grazie alla gestione delle informazioni tramite la rete interbancaria, tramite la rete internet usata dai privati come dalle istituzioni, questa enorme circolazione delle informazioni finanziarie abbia aumentato di smisura la possibilità degli scambi, la possibilità di far emergere e di utilizzare strumenti di scambio delle informazioni finanziarie e di compravendita delle informazioni finanziarie sempre più evoluti e sempre più rapidi.